Questo è quello che nei miei anni ho tolto. Questo è quello che noi vediamo ma non riusciamo a vedere quello che rimane sott'acqua. Questa è la pesca illegale, adesso non mi viene il nome. Comunque io sono al museo Muma di Milazzo e questo purtroppo è il capodoglio che è morto per colpa di questa rete. Vedete, questa è un'opera creata da Carmelo Isgloi e questo è i sacchetti di plastica che c'è all'interno del suo stomaco. Carmelo tu non ci sei perché sei in un'emergenza all'isola di Salina per un capodoglio forse invigliato in una rete. Oggi è 18 luglio 2019, è 2020.